Dissertazione paradossale di un asino di Castelmorrone su se stesso, esposta ad un pubblico non edotto in materia. Io mi chiamo Cardilla e sono con i suciariello in Marona. Mamma mi si chiamava Paloma, morta da fatica e ammazzata, povera, e dopo morta, la figliarono e la portarono a Madalun per fare una mortadella. Padre non lo conosco, sarò se siete andati suciariello? No, no, io voglio morire vecchiaio. Vado piano piano, non corro mai, cammino sotto un muro. Vado a legno a legno e torno sempre a casa. Porta l'arma di una carretta e il suo padrone mi pazzia, sai che faccia? Mi gioco un occhio. Aiuto, aiuto, non lo rendo un occhio. E raggio, raggio, più non posso. A questo suo padrone va a carezzo, ma le va a sarmi e mi era una braga di abbiare. Abbiare? C'è pensate? Mi rabbiava come fosse un cavallo. Ma io sono giù, non sono nobile, ma basta solo dopo che era meglio. Però, e questo me lo dovete consentire, la ramegna deve essere fresca. Eh sì, questo è un difetto che ho. Mi piace la ramegna fresca. È l'unico vizio, l'unico difetto, non ne ho più. Voi recite? Tu ti raccavese, e questo è lato difetto. Ti raccavese? E questo è una grossa fassaria. In realtà, è solamente uno comportamento e difese che io metto in atto quando mi sento a disagio, in pericolo o infastidito. Non scaucei mai, senza motivo. E poi io mi avviso. Prima scaucea, vi avverto. Lo anticipo con colpi di coda. Poi va a tazza a banderra e a questo punto il calcio potrebbe arrivare. Ma di norma preferisci che mi allontanavo. Io gli ho sceso, soprattutto quando sto attaccato. Quando sto attaccato e faccio un muro, mi sagliene un'armatura talmente forte che non mi controllo più, e cominciò ad attaccare. A chi coglio, coglio. Bambonte? E questo sarebbe nato difetto. Sì, è vero. Abbota bambonte, e non vaga né a nanzi, né a rete. E allora sono ammazzato. Ma questo è perché vengo qualche ostacolo. Chissà c'è il numero uno di un cioppone, di una luce. Io non faccio per capriccio. O faccio perché... Dovete sapere che la mia vista è sfocata e quindi è normale che non succederebbe questo blocco quando si trova nanzi delle ombre avviscate a fasce di luce. Non capisce? Le ombre le parlano di chissà che. E per questo motivo ho la fame di coggiuto, testardo. Ma non è così. Bambonte, perché io sono attento. La mia è attenzione e precauzione. Se è per il cavallo, che viene dalle praderie, la soluzione migliore in caso di pericolo è la fuca, per l'asino, cioè per me, che sono originario di zone desertiche e sassose, la fuga estintiva, senza riflettere, sarebbe un rischio troppo russo. Potrei, infatti, non tanto attento a dove metto i piedi, inciampare e cadere in pasto ai predatori. Dunque, in caso di minaccia, io invece me ne fui rifletto. Che? Allucate che non presente. Sì. Sì. Uh, mamma mia. Mamma mia bella. Ma voi che state a dì? Che fino a prova contraria che tira le carrette son chi? E che se pigli e barrate son pure io? Voi? Voi mi chiamate pigro? Ma quale pigro? In colpare me di pigrizia. Lo sapete che re? È un sacrilegio. C'è stanno tetti che dice. Fatico con mano giuccio. È ovvero. Noi giuccio non solo faticarmi stancabilmente, ma lavoriamo anche molto volentieri e con piacere. Però non sa da pretendere l'impossibile. L'asino non solo lavora al posto dell'uomo nelle campagne e in diversi ambienti difficili, ma è così umile e adatto a tanti altri lavori che alla fine ve ne costa poco e niente a un padrone. Io costo poco e rendo molto. E per l'economia di una famiglia e contatina sono importantissimo. Basilare. Anzi, lo ero. Certo, non sono un cavallo. Ma che teno un cavallo che non tenga puricchio? Poche cose. È più forte di me. È logico. È più grosso. Ma costa pure più, però. Ed è pure più convenzioso di me. A questo ci piace abbiava. E mi racconta una ramegna. fresca. Io, oltre a faticare, faccio pure altre cose. Per esempio, produco il latte. Sì, d'accordo, pur un cavallo fa. Ma il mio latte è migliore. Il mio latte è di una qualità eccellente. Un latte giù. Un latte giù. E ritrave da l'occhio. Chiede un prodotto prelibato. Sopraffino. Fa bene ai lattanti perché è molto simile a quello delle mamme che allattano. Fa bene ai bambini che crescono. Ai giovani. Ai vecchi. A tutti. Insomma, è utile in moltissimi campi. In antichità ci sono state regine e principesse che si facevano bagnere in due latte mie per abbellire e ammorbidire la loro pelle. A proposito di pelle. La pelle mi è servuta a fare tante cose. Ma ne ricuna su? I tamburi. I tamburi delle grandi orchestre. Un cavallo è più veloce di me. Ma questa è una cosa che non serve in campagna. Provate a correre per basciare l'autorrupo che assarmi con le spalle e poi mi venite a contare. E ora è regginata cosa. Per secoli e secoli ha già fatto parte dell'eredità che passava da padre in figlio. Per faticare nei mulini, nei frantoi, per tirare l'acqua dai pozzi, eccetera. Gli erano un bene prezioso. Allo damma? Quanta storia che in erodamma ha già carriato i coppirini dalla stalla alla campagna. Ha già perso il conto. O Pasquale. Perché ne parlavamo a fare? E quanta parrata ha già avuto? Quanta parrata? Dio mi assiccia pensa, ma fanno male ancora i rini. Ma fanno venire a mente un medioevo, un periodo più brutto della vita mia. Quando veniva portato nelle chiese e frustato davanti all'altare perché è considerato l'incarnazione del demonio. Io, l'incarnazione del demonio. I portà s'arma, i portellini, i dirà carretti, e sempre su uno, ma in compagnia da succiarire. A mia compagnia mi piace assai. Ma qualora, io spesso e volentieri dire pure l'aratro, avvalanzire, d'accordo, in aiuto alle vacche, ma lo tiro. Povero il padrone, chi ha faticato sono stato solo nelle vacche. E io, io non ho già fatto niente. E mi pare giusto. E pensare che gli antichi greci mi consideravano un animale sacro. Ma qualora, io so docile con manai niente, io sopporto tutte le ingiustizie. I padroni con me si sono comportati sempre malamente. Ma non tutti quanti, a Gericina è verità. Ci stavano pure quelli che mi trattavano bene. Adesso però gli asini non servono più a niente. Sono scomparsi. Non ci stanno più. E perciò sono qua solo come fosse un ricordo. Ci abbiamo fatto una bella chiacchieratella. E dopo questa bella chiacchieratella, che concetto siete fatti di me? Buono o malamente. Aspettate. Non potete decidere ancora. Perché va giacondata e cosa. Un fatto importante che dovete sapere è che io sono intelligente. Non sono stupido come qualcuno di voi dice. Come per esempio a Caserta. A Caserta quando vanno offendere qualcuno con comportamenti un poco da ignorante, da stupido o da caffò. Ancora oggi alcuni dicono Ma parò ciocci e marrò. Eh sì. Sotto questo aspetto tengo una brutta fa. Ma quelli mi conoscono solo per sentito dire. O ciocci e marrò. Tanto per cominciare non è uguale alla di ciocci. Io non sono cammiscato i cocchili toscani, calabrese o di cagliazzo. Ma sono ciocci classificati e mi differenzio all'altro per certe caratteristiche. Quali sono queste caratteristiche? Io sono Claudio, il Rechialon, o Pili Grigio e Morelli. Insomma, sono burronese. Sono, come si dice, una sottospecie. Tutte quelle persone non sufficientemente informate sui somari fanno il seguente ragionamento. Quale animale lavorerebbe in condizioni spesso disastrose facendosi maltrattare senza reagire se non un animale stupido? Stupido un corno. Io in realtà sono uno dei mammiferi più intelligenti. Facetemi piacere. Facetemi piacere. Facetemi piacere voi a quei cittadini stufatti e ascoltate me che di ciucci me ne intendo semplicemente perché io lo sono. Per esempio, a se io ritro guanciale, io vi osservo per capire se il cancello in questione tene qualche marchigegno meccanico che potrò poi aprire con il muso o gli zoccoli. Io, in tutto il mio essere, sono un animale attento, affidabile e ponderato. Tengo una memoria eccezionale. Quel che ho conosciuto e sperimentato una volta non lo dimentico mai più. Persino dopo molti anni mi ricorderò di un vecchio compagno di stalla o di una persona conosciuta. Facetemi la tua piacere. Non chiamate più asine quei bambini che a scuola non studiano perché commettete un errore, fate un accostamento sbagliato. Io tengo una memoria eccellente. La strada che porta a casa, i percorsi, i sentieri, me li ricordo tutti a memoria anche a distanza di anni. Ritornando al cavallo, se dici che quest'animale è più intelligente di me. Vi ho dimostrato che non è vero, ne abbiamo parlato abbondantemente. Io sono intelligente come i stessi, proprio volimmo come se dici mettere i votini sulle i. Io, per certe cose, mi considero più intelligente di me. L'unica cosa che forse, forse, che potesse essere, e che forse, forse sono d'accordo con la bellezza. Effettivamente è leggermente più bellissima, ma per l'utilità pura bellezza non serve a niente. O porche è bella, però serve. E chi ha da ricevuto a chi ne ha? Chi le non si può guardare, tanto che è brutto. Eh, i tempi sono passati. Oggi c'è la motorizzazione. Io non serve più. Ma siccome sono intelligente, mi sono adeguato. Per esempio, la cosa più bella è che mo' so' diventata professore. Da ciuccio a professore. Eh, eh, voi vi facci d'arsatelle e ridete, ridete pure. Non ci credete? E facetemi una bella passeggiata nelle fattorie didattiche e vi renderete conto che la prima cosa, come si dice, star, ecco, la prima star son chi? Io insegno loro tante cose. Attraverso il mio comportamento imparano l'umiltà, la pazienza, la tranquillità e la capacità di relazionarsi con gli altri. Ed ora statemi bene a sentire. Per chiudere in bellezza il suo discorso, periché l'ultima cosa di cui vado orgoglioso e vi saluto. Io fui uno dei pochi animali testimoni della nascita di Gesù a Betlemme. E fui sempre io che ho portato in guanna in occasione del suo ingresso a Gerusalemme. E quando la sacra famiglia sono i foglietti in Egitto, chi ce la portai? Io, sempre io. Mi ricordo inoltre la grande quantità di conti fatte a rie le favole che si sono scritti in guanna a me per la gioia di tutti i bimbi del mondo. Un grande poede scrittore ha detto Dell'asino mi incantano l'amitezza e la pazienza, l'occhio umido e dolce illuminato a tratti dai lampi di furbizia. E mo' ricita, ma che concetta da si da fatte in me? Grazie.